La Tribù del Calcio, il seguitissimo programma televisivo sportivo di Mediaset in onda su Mediaset Premium e su Italia 2, ha deciso di narrare la storia dell'Alicata Calcio e della storica promozione in Serie B. Sono passati tanti anni, sembra per alcuni di noi un ricordo lontano, eppure è bello pensare che una grande redazione come quella della Tribù del Calcio, coordinata da Paolo Zuliani, ha pensato di mandare una troupe, un bravo giornalista come Maurizio Ricordari, per raccontare la storia dell'Alicata, in tutti i suoi aspetti, l'aspetto sociale, l'aspetto culturale, l'aspetto sportivo. Le testimonianze, a parte la mia che ero un giovane cronista, ma quella del figlio del Presidente Alicata D'Andrea, ma anche di Pippo Romano, così come di un tifoso, hanno tracciato in pochi minuti quella che è stata la storia di una grande squadra con un grande cuore. Certo, avendo più tempo, Mediaset avrebbe potuto parlare con altri personaggi, far raccontare altre storie, valorizzare anche giocatori indigeni come Angelo Consagra, che sicuramente hanno rappresentato una bella storia dell'Alicata. Io credo che per l'Alicata sportiva, ma anche per l'Alicata città, questo flash che appare su Mediaset è una bella pubblicità in positivo per una città che ha tante cose da dire.